Maltrattata per sette anni dal marito, trova il coraggio di denunciarlo alla polizia. È la storia di una trentenne di nazionalità albanese che lo scorso 7 gennaio è stata notata e soccorsa dal personale del 118 che casualmente transitava in via le Marchi a Lecce. La giovane donna correva per strade, lacrime e con addosso il pigiama. Al personale sanitario ha raccontato di aver avuto una lita con il marito e di essere uscita di corsa da casa per timore di essere picchiata da lui. Considerata la situazione, il personale del 118 ha chiesto l'intervento di una volante della polizia. Gli agenti, vista l'assenza di evidenti segni di violenza e di rifiuto di ricorrere alle cure mediche, ha riappacificato i due. In tarda mattinata, però, la donna, approfittando di un momentaneo allontanamento del coniuge e non potendone più dei suoi maltrattamenti, si è recata al pronto soccorso, dove le sono state diagnosticate delle ferite al volto e al corpo, guaribili in pochi giorni. La trentenne si è poi recata in questura a sporgere denuncia e a raccontare particolari dei maltrattamenti subiti in sette anni di matrimonio, durante i quali il marito non ha mai accettato di separarsi. La polizia ha così provveduto, in via d'urgenza, ad eseguire nei confronti dell'uomo un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Grazie.